La legge sulla nuova Pescara è cosa fatta ormai già da qualche giorno dopo l'approvazione in Consiglio e c'è chi pensa di allargare questa nuova Pescara anche a Città Sant'Angelo. Qualche amministratore ne ha parlato e si è detto possibilista. Qual è la posizione del primo cittadino di Città Sant'Angelo? Innanzitutto tengo a precisare, anche se tutti già lo sanno, che se un domani Città Sant'Angelo dovesse o volesse entrare nella grande Pescara lo potrebbe fare solo e esclusivamente dopo aver sentito la sua popolazione con un referendum popolare. Io nel 1985, quando ho iniziato a fare la mia carriera politica, partecipai a una riunione all'Università di Chieti dove si parlava di area metropolitana, quindi parliamo di 30 anni fa dove già si aveva una visione di insieme. Ma io porterei ulteriormente all'attenzione dei nostri telespettatori e anche il fatto che esistono in Italia già le città metropolitane, quindi già buona parte di queste cose è legge. Quindi Città Sant'Angelo, avendo l'uscita Pescara Nord, avendo il polo commerciale forse il più importante d'Abruzzo, non è vero che farà la periferia della grande Pescara, ma può giocare un ruolo importante per questo nuovo contesto, questa nuova configurazione politica. Quindi ai posteri il futuro, speriamo che ci sia una visione globale e che i campanili che fino adesso hanno bloccato alcune realizzazioni importanti, vedi il casello autostradale, vedi altre realizzazioni, vengono in qualche maniera superate. Quindi Gabriele Florindi, da sindaco ma anche da cittadino, se domani si dovesse andare a votare, se ci dovesse essere un referendum, voterebbe sì? Io voterei sì perché secondo me è il futuro che ce lo impone, cioè con le esigue risorse che hanno gli enti, con i trasferimenti da parte dello Stato che vengono sempre meno, con un discorso di unione, queste cose potrebbero migliorare di gran lunga i servizi da dare e dedicare ai nostri cittadini.